Sono Andrea della Disabili Abili e sono qui oggi, come ogni giovedì, a presentarvi alcuni articoli presenti nel nostro shop online. Andiamo a presentarvi i copertoni più comuni, anche se poi vedrete che nel nostro shop ci sarà una piacetta rispetto a quelli che vi presento oggi. I più comuni si distinguono in due categorie per carozione elettronica, copertoni anteriori e copertoni posteriori. Principalmente la differenza la fa la ruota motrice. Quindi andiamo a presentarvi i copertoni 300x8, copertone più comune per le ruote di drazione. È disponibile in versione ad aria, in versione piena, quindi antifloratura, ed è disponibile in versione nera con antimacchia o in versione nera standard. Chiaramente il copertone antimacchia previene le sgradevoli macchie che si presentano sul pavimento con i classici rupertoni neri, quindi risparmiano tempo a dover mettersi a pulire in casa. Troviamo poi sempre come 300x8 il profilo racing, quindi un profilo non tassellato ma più, diciamo, sportivo. Stesso tipo di profilo, cioè racing, lo troviamo anche con misura 350x10, generalmente mutato sulle ruote posteriori della nostra Permobil X850, in abbinamento al 300x8 anteriore. Sempre per le ruote motrici possiamo tranquillamente avere i copertoni 2,50x8, sono copertoni più piccoli rispetto al 300x8, quindi con carrozzine generalmente di ingombra o minore, ed anche questo è possibile averli in versione nera ad aria, in versione grigia sempre ad aria, e in versione piena, grigia tassellata sempre. Questo per quanto riguarda le ruote motrici della vostra carrozzina. Per quanto riguarda le ruote anteriori o posteriori piroettanti, in questo caso le più comuni sono le 2,50x3, che esistono in versione liscia ad aria, liscia piene, o in versione nera ad aria. Per ultimo, non certo meno importante, il copertone che noi utilizziamo per la nostra Extreme X8, e che sicuramente potrà andare bene per alcune delle vostre serie off-road, il 145-76 tassellato, tipo quad, comprensivo di camere d'aria apposite. Mi raccomando, in questo caso, selezionate per la nostra X8 cammellaria con valvola a 90 gradi, essenziale per il montaggio. Se potete continuare a seguire i nostri consigli sul nostro materiale presente nello shop, e d'altro ancora, potrete mettere like alla nostra pagina Facebook, iscrivervi al nostro canale YouTube, o seguirci su Twitter o Instagram. Un saluto a tutti, da Andrea. Un saluto a tutti.